Il 25 aprile è da 75 anni una giornata particolare a Milano e in Italia. È la giornata simbolo di quella primavera meravigliosa e irripetibile in cui i milanesi insieme agli altri italiani hanno riconquistato la loro libertà dopo i lunghi anni della dittatura fascista e al termine di una guerra sanguinosa e vergognosa segnata da decine di milioni di morti, dall'ignominia dei campi di sterminio, da violazioni inaudite dei diritti umani. Ed è anche la giornata in cui ricordiamo tutti coloro che hanno combattuto nella resistenza e in particolare coloro che hanno dato la loro vita per garantire la nostra libertà e consentirci di vivere in democrazia. Quest'anno sarà un 25 aprile diverso a causa della pandemia Covid-19. Parteciperemo sì, condivideremo gli stessi sentimenti, ma ognuno chiuso nelle proprie case. E dovremo trovare delle modalità diverse. Anche la Casa della Memoria, che da cinque anni partecipa attivamente alle celebrazioni del 25 aprile a Milano, ha pensato di celebrare l'anniversario con una mostra virtuale di storie, immagini, suoni, documenti, testimonianze, che commuove, fa venire il desiderio di conoscere meglio, sapere di più, incuriosisce, appassiona e in questo senso si inserisce in quel lungo percorso fatto nelle varie celebrazioni, nei vari anni di questa giornata con lo scopo di far conoscere meglio il grande contributo che ha dato la resistenza italiana alla lotta contro il nazifascismo e la sua definitiva sconfitta. La pandemia non è paragonabile alla Seconda Guerra Mondiale. Certo c'è il rischio del contagio, ma non ci sono certo i pericoli dei bombardamenti, della violenza nazista e fascista. E soprattutto viviamo in una democrazia sia pure largamente imperfetta, che va molto migliorata, ma che consente di esprimerci liberamente, di partecipare a una comune ricerca di una società più libera e più giusta. E tuttavia alcune analogie ci sono, nel senso che oggi, come allora, ci sono segni di grande abnegazione da parte di medici, infermieri, personale sanitario, volontari, di coloro che garantiscono servizi essenziali. Oggi, come allora, siamo tutti chiamati a un sentimento di solidarietà e di responsabilità nei confronti dei nostri concittadini per superare insieme questa prova difficile. E quindi direi che anche in questo clima in cui viviamo una crisi profonda per la società italiana, per l'economia italiana, in cui vediamo un futuro incerto, è ancora più importante la memoria di quei giorni meravigliosi, ancora più importante è l'insegnamento che ci viene dalla resistenza, affinché riaffermiamo, ribadiamo il nostro comune patto di cittadinanza, il nostro impegno a costruire una società più libera e giusta, nel ricordo di chi ha dato la vita per la nostra libertà. Grazie e buon 25 aprile.